8 piloni con attacco albis la strada che viene su da Mizzole e va su a Trezzolano, quella là è la chiesa che c'è? che cazzo di capri? ma che lì hai tagliato o vecchio? 11.5 super 8 piloni no 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 a presto Grazie a tutti 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 Bella lì E questi erano 8 piloni Con la variante finale a destra Altrimenti si poteva andare dritto E si sbucava dove inizia La salita per l'Albis Grazie a tutti